Hey, nothing you can say, nothing's gonna train what you've done to me, now it's time to shine, I'm gonna take what's mine E ciao a tutti ragazzi e ben ritornati su Overwatch, oggi siamo in una challenge insieme a Rodog E questa challenge consiste nel fatto che non dovremo mai utilizzare il gancio Il gancio è diciamo l'abilità più potente di Rodog, beh anche la vita Ma senza il gancio è molto difficile uccidere gli avversari, quindi vedremo come andrà, ci vediamo al video Non so quanto sarà facile con Rodog senza catena, anzi, a mo' due, voi forse non lo sapete ma io sto registrando nello stesso momento di un altro video Dal video di Bastion e questi qui stanno usando da tre match consecutivi lo stesso identico personaggio Nello stesso identico modo Ma che cazzo pensavi di fare lì? Ma Sai quanto sei fortunato che non posso usare il gancio, vero Anzolo? Sai quanto sei fortunato? Bravo Reynaldo, bravissimo Un'altra schiacciata Un'altra schiacciata Ma per favore dai Genji? No ma non si capisce che giocate insieme, tranquilli L'unica cosa che sapete fare è andare avanti di doppia schiacciata E di cala al martello Ma non vi rendete conto che non ci riuscite? Se io faccio Bastion voi perdete ma adesso sto facendo una sfida e quello è il problema Vabbè scusate ragazzi, devo fargliela capire Perché la quinta volta che fanno la stessa identica cosa gliela faccio capire io cosa si deve fare Sì? E dove pensavi di sfuggirmi, scuso Ciao eh Vedo che nessuno ti protegge Ovviamente la zaria nemica è sempre potenziata al massimo Io mi chiedo chi è il coglione che lo potenzia sempre al massimo Scusa e Bastion me ne sono accorto un po' dopo che ti aveva attaccato un Reaper da vicinissimo Zaria è la prima che deve sempre morire Sempre È la più rompicogliona E infatti io punto solo a lui A lei Bella combo No bello Mo che fai? Ah scappi eh Ma per favore Mi sa che ho laggato male Accidenti a quella zaria, dove volete ammazzare? Sei fortunato che non ti posso agganciare Sennò col cazzo che te la facevo fare tutta quell'ultra Devo ricordarmi che ho solo quattro proiettili Al contrario di questo bel Reaper C'è un Roodog nemico Che son dietro, scemo Ancora è potenziata al massimo Non ci credo E quello come lo piglio? Potrei buttare giù in realtà Va bene Se volete usare tutte le vostre ultra su di me è un Reinhard Ok abbiamo usato due ultra Ah perché aveva preso il Non ci credo Ho fatto un ultra sbagliatissimo Perché non sei andato addosso Fibra? Ah la mano Un Reinhard che cadono Perfetto Io cambio lobby ragazzi Perché veramente Alla fine le medaglie d'oro me le hanno tolte Sono stato da Tracer Perché era l'unica che stava facendo qualcosa di decente E vabbè le medaglie per cura Lucio Cioè era il colmo E rieccoci in un'altra partita Andiamo di vincere stavolta Stavo andando bene Questa challenge non è così difficile come pensavo in realtà Aia Qualcuno mi protegge un attimo Ma qualcuno mi Allora vorrei grabbare con una voglia Che brutta fine Che brutta fine Che faccio anch'io se mi butta giù Hai rotto il cazzo Farah Eh Non hai capito che hai rotto il cazzo Peccato che non ho mai preso Solito lusso salterino Mastarda ci ha preso la vita Dove è andato? Ah ma lui è entrato con dentro Ma per favore Mi fai un calare al martello e poi non fai niente però Ah li avete buttati giù voi due Eh ti prendo anche senza il mio Gancino Cazzo devo ammazzarla prima Ero una serie di 12 Beh è vero ero sempre qui in giro Quindi ci sta però Una serie di 12 Oh dai ragazzo Perché quando io muoio una volta Gli avversari avanzano subito? Ma è sempre così eh Cazzo li finisci i proiettili eh Ma porca troia Reaper del cazzo è riuscito Che ci fa una mei che mi congelo? Ma Mercy dove sei andata? Ma sarà andata da Bastion Sarebbe più che giusto Mi ha fatto un calare al martello a me da solo? Senza vita? Non ci credo Ammazzatelo Cos'hai? Perché mi si è rincastrato? Perché? Ma c'era Lucio dietro che non mi impediva di andare avanti? E di tornare indietro? Ficca stavolta ci muori Non me ne frega un cazzo Nooo Ma dai stavano stravincendo Ma ragazzo Ma ragazzo Ma per favore Va buono Sì Ho sopravvissuto due volte come non so cosa Quello lì è un culattone E va bene Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti